Musica Premio La Conte 2024 per Agnese Perrone e Premio Speciale dell'Accademia per Emanuela Chiriaco Buonasera a tutti e grazie Rinnovo come sempre il mio ringraziamento a voi perché fate veramente della cultura un gioiello che appunto chi fa cultura sa quanto sia difficile e quanto molto spesso ci si senta quasi costretti a scendere a compromessi e mi auguro che in futuro invece la cultura, l'arte, ogni forma di arte si possa arrivare a capire che appunto è il motore trainante di una società e di un popolo quindi grazie davvero Grazie Agnese, grazie grazie all'Accademia sono molto contenta soprattutto perché rappresento principalmente il mondo della traduzione letteraria che è un mondo molto poco conosciuto e quindi questo premio sento di dedicarlo principalmente alla mia professoressa che è una grandissima traduttrice che è Franca Cavagnoli e poi a mia madre perché purtroppo non c'è più e questa bellissima cosa non può vederla grazie grazie a lei premio Lau Conte e premio speciale dell'Accademia grazie grazie a tutti 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 grazie a tutti